Nel sud Italia è ancora più forte che nel resto del paese il divario fra la potenzialità data sostanzialmente da innovatività, creatività, non solo nel settore imprenditoriale ma anche in quello pubblico, nella scuola, nel sistema della salute, nell'agricoltura, nei comparti nuovi e antichi e dall'altro la incapacità di tradurre queste micro creatività in un disegno di cambiamenti, in un aumento della produttività, in un miglioramento della qualità della vita dei cittadini del sud. Cosa c'è di mezzo? Cosa lo impedisce? Lo impedisce fondamentalmente un apparato pubblico e statuale, un sistema di governo locale che non va. Ci sono tante figure interessanti nel governo locale del Mezzogiorno, infatti in alcuni casi le cose funzionano ma complessivamente il paese, quest'area del paese, come del resto anche alcune aree del nord, l'Emilia Romagna e la Lombardia in primi si sono sedute, le classi dirigenti locali hanno delle responsabilità, sono diventate classi rantiei, estrattive delle loro posizioni di potere, delle loro posizioni di rendita, perfino la politica pubblica, lo sappiamo, è stata da loro utilizzata come uno strumento per proporsi come intermediari e questo ha spinto anche i ragazzi o ad andarsene o ad altri a scegliere magari professioni meno nobili, meno belle, meno affascinanti, meno creative che però remunerano perché diventi un intermediario. Come cambiare? Ci vuole una visione, ci vuole metodo, bisogna scegliere alcune cose su cui il sud giochi la sua partita nella concorrenza internazionale, quindi l'agroalimentare ha una potenzialità straordinaria, il turismo legato alla cultura ma anche al sociale, alla cooperazione sociale che è un elemento di cui Borgomeo ci ha parlato, ci parla e su cui io stesso sto facendo pratica, è legato ai beni culturali e ha anche però un salto nella qualità dei servizi. I cittadini si convinceranno del sud che è cambiato qualcosa se la mobilità, la scuola e la salute saranno fatte meglio. Il metodo per far questo ci vuole un intervento centrale, non perché da Roma si debba decidere cosa fare qui o là ma perché Roma ha il compito e il dovere di destabilizzare gli equilibri perversi che si sono creati. Quindi ti serve il locale, ti servono i sindaci, ti servono i cittadini del territorio perché sono loro che hanno gran parte della conoscenza necessaria ma il centro deve starci, starci con risorse umane, non scrivere della roba, delle carte da Roma, calare delle idee dall'alto ma stare sui territori come ad esempio il governo centrale sta facendo nelle aree interne del sud con delle squadre, dei ministeri che stanno sul territorio e dialogano, e destabilizzano e cambiano, aprono spazi ai creativi, impediscano che i soliti si prendano in mano la gestione delle risorse. Visione e metodo ci si può fare.